Nel Lazio allarme caccia per tutte le aree protette, compresi i parchi cittadini. Grazie a un emendamento approvato dalla Regione, si è arrivati infatti alla possibilità di sparare alla fauna, perfino nelle ville della capitale. In questi giorni si sono susseguite le richieste da parte dei cacciatori di entrare con i fucili dentro i giardini di Roma. A rischio dunque ora è non solo la tutela degli animali selvatici, ma anche la stessa incolumità dei cittadini e delle famiglie. Ipotizzare anche lontanamente l'accesso di cacciatori, di fucili, di armi dentro le aree protette è veramente una cosa sciagurata. Non si può assolutamente sentire che contrasteremo con tutte le nostre fossili, l'abbiamo iniziato a fare contro la Regione e lo facciamo anche contro chi continua a proporlo come col diretti in questo caso. Qual è il vero scopo di questa azione messa in campo da col diretti e dai cacciatori? L'impressione è che come al solito siamo di fronte a un attacco alle aree protette per cercare di indebolire il mondo delle aree protette a scopi di personali, a scopi di costruzione di una rete che non debba essere disturbata. In questo senso c'è quella della grande produzione agricola, a differenza di quello che succede dentro molte delle aree protette, cioè l'agricoltura piccola, l'agricoltura che parla di paesaggio, il chilometro zero vero, reale, che sono nate all'interno delle aree protette. Allora l'attacco diretto al mondo delle aree protette ci sembra l'obiettivo vero di tutta questa storia. Maurizio Gubbiotti, presidente dell'ente parco Roma Natura, è stato violentamente attaccato da col diretti che preme per l'ingresso dei fucili nei parchi. Sembra un po' ci sia un ritorno in qualche modo ai secoli bui, possiamo dire? Beh sì, quelle dichiarazioni non fanno bene all'ambiente, ma non fanno bene neanche a chi si occupa di fauna selvatica o a chi fa agricoltura. Sono dichiarazioni che richiamano una gestione del territorio del tutto sbagliata e che invece in questi decenni fortunatamente ha avuto tutto un altro significato. con l'azione dei parchi, con le politiche di conservazione della natura portate avanti dai parchi. Roma Natura, senza nessun dubbio e senza nessuna problematicità, ha scelto di fare catture con gabbie o con recinti e non prelievi selettivi attraverso l'abbattimento con i fucili. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.